eccoci qua nuovamente nel micesso, benvenute tesori allora questa è la mia routine serale per come mi strucco, come mi sistemo oddio scusatemi, ho sempre questo affanno allora ragazze, inizio subito a passare, a tirare indietro i capelli dunque ho le mollettine e mi metto una semplice fascia ok allora mi metto questa fascia nei capelli e mi tiro indietro, il viso deve essere libero poi prendo una pinza e mi tiro in sui capelli apriamoci un pochino perché se no schianto allora io vado a passare l'olio di argan che è questo olio qua, vedete è una bottiglietta blu si può usare così, c'è il semplice contagocce allora ne vado a passare un pochino sulle mani questo è olio di argan puro ragazze e inizio a massaggiare la pelle e inizio a massaggiare la pelle massaggio bene in modo tale che entri in tutti i pori che strucchi bene gli occhi allora, e qua ci siamo dopodiché vado a prendere questo sapone che è, anche questo è all'olio di argan ecco qua, vedete così, e lo passo su tutta la pelle questo fa benissimo ragazzi è proprio, mantiene la pelle veramente è buono insomma mantiene la pelle come vi posso dire è morbida manda via tutte le impurità se c'è qualche bollicina la secca insomma, è proprio buono l'olio di argan è sciolto tutto vedete ha proprio sciolto tutto però non è riuscito a togliere bene il mascara la pelle è morbidissima ragazzi proprio, è spettacolare sto qua a miscellare di Collistar che è buonissima e vado a finirmi di struccare allora ok fatto questo vado a prendere la mia cremina di Collistar questa qua ok c'è tanta luce allora siccome io domattina devo devo lavare i miei capelli per cui che cosa faccio? vado a prendere il mio olio di argan e lo passo su tutte le punte così resterà là tutta la notte e darà un po' di nutrimento a queste punte allora vado a prendere l'olio di argan il mio olio lo passo un po' nelle nelle punte perché questo qui oltre che a nutrire fa bene il capello e siccome io ho diverse doppie punte sui capelli sui capelli cioè le mie punte sono un po' rovinate dopo che ho fatto la grande cazzata di scolorirmi il capello diciamo ecco che ho fatto questa grande cazzata e vabbè e le punte si sono rovinate e io faccio un bel impacco in modo tale che mi resta là tutta la notte e domattina il capello è ben nutrito e allora posso farmi una bella doccia a sistemarmi avete visto le marocchine che bei capelli che hanno? ecco questo olio viene dal Marocco e è buonissimo ragazzi fa proprio bene è un miracolo questo visto che oggi è arrivato ho detto voglio stasera mi faccio un bel impacco domattina mi faccio una bella doccia una bella lavata e via capito ecco qua lo spazzolino il dentifricio e laviamoci i dentini ok? e adesso prepariamoci per la notte buona la notte buona la notte Grazie a tutti.